Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di tutto subito e vediamo di rispondere a diverse domande che mi avete fatto In un altro video ho già parlato di tutto subito, ve lo lascio qua nelle schede In quel video vado a spiegare come funziona tutto subito sia come acquirente che come venditore Quindi se non l'avete ancora visto e se volete utilizzare il servizio vi consiglio di andare a vedere quel video Prima però di iniziare col video vi chiedo come al solito di mettere un mi piace, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella Per non perdere tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere Qua sotto in descrizione trovate il link al nostro canale Telegram, al nostro canale Instagram dove andiamo a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online Ma ora vediamo subito alcune delle vostre domande e ovviamente se ne avete altre lasciate pure un commento qua sotto perché come al solito rispondo sempre a tutti La prima domanda che ho ricevuto è se vendo con tutto subito come funziona l'etichetta del pacco? Devo prenotare un ritiro? Se abbiamo scelto di effettuare una vendita su tutto subito utilizzando il servizio di spedizione quindi di TNT o di poste italiane che subito offre Ci arriverà una mail o una notifica tramite l'applicazione con un link da cliccare per andare a prenotare il ritiro della spedizione presso la nostra abitazione o il nostro ufficio nella data che preferiamo Se invece non vogliamo effettuare un ritiro potremo semplicemente andare a effettuare la consegna in un punto di ritiro di TNT o di poste italiane Nel momento in cui andiamo a selezionare la data per il ritiro ci arriverà un'etichetta che dovremo andare ad apporre sopra il pacco e noi come venditori non dovremo assolutamente pagare nulla Le spese di spedizione infatti verranno pagate direttamente da chi acquista verranno pagate da chi acquista direttamente a subito e quindi in questo modo non dovremo preoccuparci di nient'altro Un'altra domanda che mi viene fatta sempre relativa alle spese di spedizione è se vengono mostrate all'acquirente Vi confermo che vengono mostrate all'acquirente ad esempio se simulate voi un acquisto da un prodotto che viene venduto con tutto subito Vedrete che scorrendo verso il basso potrete vedere anche le spese di spedizione che sono previste Quindi l'acquirente quando vede un vostro oggetto che ipotizziamo costa 50 euro vedrà l'oggetto 50 euro Scorrendo verso il basso vedrà le spese di spedizione in base alla tipologia di oggetto che sarà da spedire E quindi potrà fare il calcolo di quanto gli verrà a costare l'oggetto Quando andate a inserire un oggetto in vendita con tutto subito dovrete selezionare una delle tre fasce di peso che tutto subito vi indica Quindi pacco piccolo, medio o grande in questo modo la spesa di spedizione verrà calcolata poi in automatico Altra domanda che mi siate fatta è posso spedire io l'oggetto senza usare tutto subito? La risposta è sì, possiamo decidere anche di non utilizzare tutto subito Quando andiamo a effettuare infatti l'inserzione possiamo scegliere se spedire con tutto subito o spedire in modo autonomo Se scegliamo la spedizione in modo autonomo sarà quindi a noi scegliere quale tipo di corriere andare a selezionare e quale tipo di spedizione effettuare Il consiglio che vi do però è quello se utilizzate tutto subito di utilizzare i loro corrieri di spedizioni Perché in questo modo praticamente non dovrete preoccuparvi voi della spedizione ma vi arriverà semplicemente un corriere a casa E inoltre un altro vantaggio di utilizzare la loro spedizione è che nel momento in cui il pacco verrà ritirato Verrà preso in consegna dal corriere da casa vostra dall'applicazione verrà notificata questa cosa E quindi il pacco risulterà spedito Quindi per il venditore ma anche per l'acquirente è una garanzia in più la spedizione con tutto subito Perché ci permette di avere un controllo in più da parte di subito sul fatto che la spedizione sia avvenuta correttamente Inoltre un altro vantaggio per l'acquirente è quello di sapere esattamente quando è stata consegnata Perché quando la spedizione viene consegnata arriverà un'ulteriore notifica tramite l'applicazione di subito Che il pacco è arrivato a destinazione Passiamo quindi a un'altra domanda Se il cliente dichiara che il prodotto non è quello desiderato mentendo Come ci va a tutelare tutto subito? Questa è una delle maggiori domande che ho ricevuto sotto al video che vi ho elencato qua nelle schede Ovviamente partiamo dal presupposto che quando si effettua un acquisto online, una vendita online C'è bisogno di fiducia reciproca tra il venditore e l'acquirente Quando non era presente tutto subito come mediatore Il venditore metteva in vendita un oggetto L'acquirente si fidava, pagava in anticipo l'oggetto e il venditore spediva Ovviamente quindi ci deve essere fiducia in chi vende per acquistare un oggetto Sperando che sia nelle condizioni che vengono dichiarate all'interno dell'oggetto stesso Per quanto riguarda invece il servizio tutto subito c'è una tutela in più per l'acquirente Che sa che ha comunque una possibilità di rivolgersi a tutto subito in caso appunto di truffe O in caso di prodotto che arriva non funzionante Ma dalla parte del venditore in realtà non è una non tutela e quindi una tutela solo per l'acquirente Perché ovviamente se noi ad esempio siamo un venditore che ha effettuato già diverse vendite su subito E quindi abbiamo ricevuto diverse recensioni Questo non vuol dire che per forza avrò ragione io e quindi potrò truffare io inviando un prodotto non funzionante Ma ovviamente subito a questo punto si metterà in mezzo andando a sentire entrambe le campane Andando a gestire al meglio la situazione Devo dirvi la verità che attualmente per il momento non mi è ancora capitato una situazione del genere Quindi non ho avuto ancora un'esperienza diretta sotto questo punto di vista Ma sono abbastanza fiducioso Passiamo a un'altra domanda Esiste il diritto di recesso? In realtà in questo caso non si tratta di una vendita di prodotti nuovi Ma si tratta di una vendita di prodotti usati Quindi il diritto di recesso non è ovviamente contemplato Come devo preparare il pacco? L'abbiamo già detto precedentemente In realtà vi basterà confezionare il pacco il più possibile in modo accurato In modo tale che l'oggetto non si possa rovinare in fase di spedizione Applicate volendo l'indirizzo del destinatario Applicate l'etichetta che vi verrà fornita se spedite con TNT o poste italiane tramite tutto subito E portate il pacco in un punto di ritiro o aspettate che il corriere venga a prendervelo a casa Vendo con tutto subito ma l'acquirente mi manda un messaggio esterno? Assolutamente no Quando effettuiamo una transazione su tutto subito Tutto avviene all'interno di subito Quindi l'acquirente decide di effettuare un'offerta Il venditore accetta l'offerta L'acquirente paga tramite la piattaforma di tutto subito E quindi pagherà l'oggetto, le spedizioni e eventuali commissioni che tutto subito applica Quindi l'importo verrà interamente pagato dall'acquirente a subito Subito incassa i soldi Conferma a noi venditori che ha ricevuto i soldi in modo corretto e quindi possiamo procedere alla spedizione Il venditore effettua la spedizione con il corriere di tutto subito con un corriere proprietario Quindi la spedizione arriva al destinatario che dovrà confermare la ricezione del prodotto E il corretto funzionamento del prodotto come previsto dall'annuncio A questo punto subito andrà a confermare che quindi la transazione è chiusa correttamente E entro tre giorni se il venditore ha scelto bonifico come metodo di pagamento da subito riceverà i soldi Quindi i 50 euro della sua ipotetica vendita Non riceverà ovviamente i soldi delle spese di spedizione e le commissioni che eventualmente si trattiene subito Se invece ha scelto Paypal come metodo di pagamento riceverà i suoi soldi su Paypal Il pagamento al venditore arriverà anche qui sempre da subito Quindi non bisogna mai accettare la richiesta di un contatto esterno Perché altrimenti usciamo da tutto subito, non saremo tutelati e saremo a rischio di truffe Un'altra domanda che mi è arrivata è Una volta spedito posso seguire il tracking? Come posso sapere quando arriva? Anche a questo vi ho già risposto Nel senso che se effettuiamo una spedizione con tutto subito il tracking sarà gestito in automatico dall'applicazione Se effettuiamo una spedizione in modo autonomo basterà avere il numero di tracking Se vogliamo eventualmente controllare una spedizione basterà prendere il numero di tracking Andarlo a inserire sul sito di TNT o nel caso delle poste il numero di tracking è sul sito delle poste E seguire quindi la consegna della spedizione Se il prodotto arriva ma l'acquirente non conferma l'acquisto che dobbiamo fare? Mi è capitato anche questo da parte del venditore Io ho inviato l'oggetto, l'oggetto è arrivato perché ho controllato dal tracking che era stato consegnato Dall'altra parte però invece l'acquirente non ha più risposto Ho aspettato due o tre giorni, l'acquirente ha continuato a non rispondere A questo punto ho contattato tutto subito tramite l'assistenza Vi basterà scrivere su Google assistenza tutto subito Potrete contattarli tramite chat o tramite mail Loro vi supporteranno quindi saranno loro a contattare direttamente l'acquirente per verificare che la consegna del pacco sia avvenuta Per questo motivo infatti vi consiglio di spedire con tutto subito Perché in questo modo il tracking avviene in modo automatico Quindi l'applicazione vi confermerà in modo automatico che la spedizione è arrivata a destinazione E quindi basterà solo più poi da parte dell'acquirente andare a confermare che l'oggetto è a posto Dopo quanto tempo ricevo i soldi per una vendita? Anche qui ho già in parte risposto prima Se l'acquirente riceve il pacco e conferma subito che l'ha ricevuto, che è tutto corretto Entro tre giorni riceveremo il bonifico Invece in tempi più o meno immediati, un giorno ovviamente si parla sempre di giorni lavorativi Riceveremo i soldi su Paypal Se invece non va a confermare questa cosa dovremo attendere qualche giorno in più Ma comunque se il pacco risulta consegnato Solitamente dopo tre giorni il pagamento viene avviato E quindi al massimo con sei giorni dal momento in cui è stato consegnato il pacco riceverete i vostri soldi Come mi tutelo prima di spedire il pacco la cosa che potete fare è scattare delle immagini Fare magari un video che fate vedere che inserite il prodotto dentro il pacco e lo confezionate Questa è una tutela in più che potreste avere voi In modo tale da avere una prova in più come venditore Che il prodotto che avete inserito all'interno fosse proprio lui E volendo ancora prima potreste girare un video che il prodotto fosse funzionante Sono delle tutele che magari non servono ma potrebbero essere comunque una tutela maggiore Per garantirvi poi delle prove in più per eventuali discussioni che potreste avere Mi hanno chiesto il numero di telefono per completare l'acquisto Anche qui ovviamente cosa falsa Questa cosa solitamente avviene sempre con delle truffe Presto sul canale parleremo di un'altra truffa che sta avvenendo su Tutto Subito Quindi iscrivetevi per non perdervi il video Lasciare la recensione alla fine della transazione Questa è assolutamente una cosa da fare Sia come venditore che come acquirente Alla fine della transazione vi arriverà una notifica per lasciare una recensione sul venditore o sull'acquirente Vi consiglio sempre di farlo Perché ovviamente queste recensioni potranno servire sia per l'acquirente sia per il venditore Per avere una credibilità in più nel caso in cui dovessero capitare delle controversie E quindi subito magari guarderà anche magari a quelle recensioni Per vedere se voi eravate un venditore affidabile Per capire appunto se ci si trova davanti a una truffa O se in realtà magari effettivamente siete stati voi a inviare un prodotto scadente Come posso contattare subito? L'abbiamo già detto prima Su Google scrivete assistenza tutto subito Vi verrà una pagina tra i primi risultati di ricerca relativa a subito Lì troverete un contatto via chat E in questo modo potrete mettervi in contatto diretto con l'assistenza di subito E fargli tutte le domande per cercare di risolvere i vostri problemi Spero con questo video di aver risposto a molte delle domande Che magari possono avere le persone che si avvicinano per la prima volta tutto subito Se invece avete ancora delle domande lasciate un commento qua sotto E rispondo sempre a tutti Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Per questo video con i dubbi e le domande su tutto subito è tutto Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere Ciao da Enrico